Passerà nel bagno di un validatore, un oditor ambientale, per poi essere presentato con distanza specifica al Comitato EMAS di Roma. Una volta che sarà definito e validato con tanto di tutti i tipi previsti che vengono attribuiti nel momento in cui i dati sono stati verificati e corrispondono al vero, di questo documento ne viene estratto un rapporto ambientale o in alcuni casi come l'ordine si fa di sintesi non tecnica per essere poi divulgato, non necessariamente a una protea né di tecnici né di esperti o comunque di persone che lavorano. Uniti elementi che possono essere messi in discussione è guardando questo disegno il salto che c'è tra il quadrilatero giallo che è il petrolchimico e le aziende più a nord. Due elementi, le aziende all'interno sono del settore culturale e logistico quindi non avrebbero dei codici tipo pertinenti, ma l'associazione è open nel senso che altri siti che attualmente si stanno sviluppando l'area del settore clinico energetico e della gestione dei rifiuti, verranno una sorta di marketing acquisiti.